Ci riveligiamo ora al sbariegato popolo dei fumatori per cui non c'è davvero pace. Sentiamo Francesca Fanuele. Vietato fumare, anzi vietato gustare. Dopo cinque lunghi giorni di discussioni e proposte l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha deciso infatti di rendere la vita dei fumatori un po' più triste o se volete un po' più libera dalle dipendenze. Nel senso che ha deciso di mettere al bando dalle sigarette tutti quegli aromi e quelle essenze, vuoi di cioccolato, vuoi di vaniglia, 600 in totale, che i produttori utilizzano per rendere le bionde più gustose e dunque più desiderabili, ma che di fatto rendono solo più dipendente il consumatore. E senza nemmeno avvisarlo, tra l'altro, perché su nessun pacchetto sono menzionati gli aromi utilizzati nella lavorazione, per non parlare degli additivi chimici usati per trattare il tabacco, che durante la combustione possono nuocere seriamente alla salute, leggi mercurio, ammoniaca, cianuro di vinile. E tra l'altro i più sensibili a questi additivi sono proprio i giovani. Basti pensare che in Italia il 29% dei fumatori ha tra i 15 e i 24 anni e il 32% tra i 25 e i 45, ed è per loro che vengono sperimentati i mix a base di sherry, sciroppo di ciliegia o cioccolato. Per questo è fondamentale, secondo l'OMS, adottare strategie nuove e sempre più esplicite contro il fumo in tutti i paesi. E guai a farsi ingannare da palliativi, come le sigarette elettroniche, che secondo l'organizzazione non aiutano per nulla e per di più non sono affatto innocue, come si tende a credere. Viene venduta ormai come in tutte le farmacie, dicono gli esperti, ma non è altro che un mini aerosol metallico a forma di sigaretta, che sprigiona vapori aromatizzati che danno l'illusione di fumare.